Tanta Wanya per tutti ragazzi qui MrBlack Torniamo oggi qui su Wanya con un altro nuovissimo video su GTA Ragazzi torniamo su GTA 5 Mi avete chiesto in tantissimi, ci avete chiesto in tantissimi Se era possibile vedere come ottenere l'aereo più grande Gli aerei giganti non si possono utilizzare nella modalità online Questo perché? Perché? Non si sa perché Però il fatto sta che gli sviluppatori hanno deciso di eliminare questi aerei E dunque siamo qua oggi per farvi vedere l'unico metodo possibile ad oggi Dopo la patch 1.11 su PlayStation 3 Su come prendere appunto questi aerei Inoltre è possibile anche trovare tutti i veicoli inottenibili Cioè tutti quelli che non si possono ottenere normalmente nelle modalità online Allora partiamo subito Io intanto ringrazio Matteo che ovviamente è un fan della community di Wanya E in quanto tale lo ringrazio perché comunque sia ha reso disponibile queste informazioni a noi Che appunto le abbiamo rese disponibili a tutti Lo ringrazio E detto questo partiamo subito Bisognerà innanzitutto andare su questo link E vi lascio il link in descrizione qui sotto Quindi cliccate sul link come prima cosa Accedete al sito social club di Rockstar Games A questo punto dovete scendere in fondo dove trovate un tasto giallo Quindi dovete aggiungere questa mappa È una mappa che è stata creata nella modalità Creators Beta di GTA 5 E alla quale potrete accedere entrando nella modalità online Andate poi nella modalità Creators Quindi attività e Creators A questo punto ragazzi non vi rimane che giocare A questa fantastica modalità Potrete invitare i vostri amici Ovviamente è una modalità deathmatch Potrete giocarci da due giocatori Con un massimo di 16 giocatori Quindi potete invitare Che cazzo volete Fate il fuè con questa mappa È una roba spettacolare Noi ci siamo divertiti in un mondo E colgo anche l'occasione per dirvi Che potrete vedere Nel prossimo giorno Un nostro special qui su questa mappa Sarà da ridere E niente Io vi ringrazio per la visione Se volete altri easter egg O comunque altri trucchi di questo tipo Sempre su GTA Lasciate un bel pollicione In su Non in culo Ma capito No ok Perfetto Mettetelo ragazzi Qui Mr. Black Io vi ringrazio per la visione Ci vediamo nel prossimo video E tanta guagna per tutti Ciao raga